Signori buonasera, allora qua stiamo alle Spinighe, eccolo qui, adesso c'è un piccolo tosso che speriamo di non beccare, eccolo qua, eccoci qua, è un po' di venticello fortunatamente, la zona residenziale, ci sono molte foto, mi stavo vicino Campobuario, che è proprio a pochi metri da Campobuario, e poi passiamo con la prescia, e poi passiamo davanti, non bevamo il carizzo, non bevamo capire come si sta bene, l'abbiamo capire, Sì, sì. Le spieghe. Fortunatamente sono a bici un po' di 20 anni di vita. Non si può dire che ci sta fanno quelle fatale. Queste sono tutte le vie interne. Le spieghe. Sono indosso. Un attimo solo. Abbiamo superato il dosso. Ce ne sono alcuni perché comunque essendo un rettilineo c'è la tendenza a spingere sull'acceleratore. E' bella questo gratto. Ci sono qualche foto per dopo. Per dopo. Adesso giriamo qua a sinistra per andare a fare l'altro tratto di strada che porta l'uscita. delle spineche. Così. E' bella. E' bella questa merca. E poi poi si sbuca l'acqua di ara sia a destra. ed è un Vattangli che sia d'osso. E' bella una cosa che ha fatto. E' bella. E' bella. E' bella. Qui c'è un rettellino centrale che buca tra le spinete, ora andiamo a fare quello principale, qua a sinistra, eccolo qua, eccolo qua, facciamo un po' di foto, ci sono sempre dei gossi che ci mancano l'aria, eccolo qua, ora andiamo a fare una residencia, Andiamo a fare come in like a photo Faccio uno spazio di verghe, se c'è un gosso, ce n'è un altro. Siamo quasi finito il giro alle spieghe, è veramente caldo ragazzi, è veramente caldo, è veramente caldo. Siamo quasi arrivati alla fine delle spineliere. Filippo, eccoci qua, a dopo, ciao.